ciao scimmietta sto facendo foto video tutto scimmietta cimietta cimietta ciao scimmietta ora veniamo fate due sono sempre quelle ti presento patrizia non dai la mano prego prego non da la mano fate passare fate passare alla piccola c'è una scimmietta con la mamma in negozio c'è una ce n'è un bel poco che dolcissimo ciao 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 bello ciao e qui dalle scimmie messi in fila e noi saliamo, vale ma sparato Cacchino, buono la corda, stai pronta, siamo Sky Gipilterra, uno dei punti più alti, c'è la nostra barchetta, ed eccoci com'è, la sensazione? L'avete visto? La nave affondata, qui? In porto? Paris, 1540, un cargo affondato, da tempo, l'ho pure fotografato, ero convinto che era una piattaforma petrolifera, a primo, è un cargo affondato quello, c'è una scimmia sul posto, va dire? Ma che tocco, va dire? Gipilterra, fermata delle grotte, tutti i mezzi messi in fila e noi saliamo, sono sempre un po' diventa il centro che vale più barato Cacchino, vale più barato Cacchino Scimmieto!! Scimmieto!! Ecco con le mani, ha fatto il secondo pazzo a cura o te fai il mio cuore oi dove vai dove vai che bella